Sì, è vero, ho fatto lo spazzino, ma avevo un desiderio dentro al cuore, mi ricordo quando ero bambino, che lo chiedevo sempre anche al Signore. Avrei voluto essere una banda, col direttore papà papà che la comanda, ma la piccola banda di paesi, pochi elementi senza frattese. Ja! A presto 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 A presto